La decisione di chiudere gli otto uffici territoriali della ricostruzione non piace ai sindaci che hanno anche sottoscritto un documento, anche se c'è qualche voce fuori dal coro. In pratica si tratta di accorparli in un'unica struttura. Questi uffici, ha detto il sottosegretario alla ricostruzione Paola De Micheli, questa mattina in città per partecipare ad Ufficina L'Aquila, hanno avuto sempre i problemi. Un provvedimento di cui si parla da tempo, tra l'altro. Il provvedimento del Governo al centro del dibattito trasferisce in sostanza tutte le competenze all'Ufficio Speciale per la ricostruzione del cratere, a partire dal 1 maggio 2018, nel quale confluisce anche il personale, oggi dislocato negli UTR. Sarà il titolare dell'Ufficio, Paolo Esposito, a provvedere ovviamente alla sistemazione logistica, mentre i dipendenti assunti a tempo determinato dai comuni resteranno in servizio presso i rispettivi enti fino alla scadenza dei propri contratti. Lo stesso USRC potrà tuttavia stipulare convenzioni coi comune per aprire degli sportelli decentrati nelle serie degli UTR soppressi. Quindi, la De Micheli dice, non vedo dove sia il problema. Allora, innanzitutto nel decreto ci sono tutte le risorse chieste dai sindaci dell'Aquila e del cratere. Ci sono tutte le proroghe per il personale precario. C'è la conferma per il personale a tempo indeterminato, sul quale peraltro stiamo cercando anche di costruire un percorso da qui al 2023. C'è anche la decisione di abrogare e chiudere gli UTR rispetto ai quali noi decidiamo di rafforzare l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione. Deve essere chiaro che la governance delle aree omogenee non viene toccata dall'emendamento. Anzi, se si sente, se dovesse emergere l'esigenza di rafforzare quel modello collaborativo tra istituzioni, siamo disponibili a rafforzarlo. Sul tema degli UTR, più di un anno e mezzo fa, proprio i sindaci mi segnalarono, tra l'altro alcuni di quelli che hanno firmato il documento, mi segnalarono problemi, abbiamo in questo anno e mezzo provato ad affrontarli e a risolverli, non ci si è riusciti. Pertanto, per dare garanzia che la ricostruzione deve essere efficace, efficiente fino all'ultimo giorno, per rafforzare il modello della ricostruzione che abbiamo costruito, abbiamo deciso, peraltro, condividendolo con la stragrande maggioranza dei sindaci, perché è da settembre che parliamo di questa cosa, di spostare il personale degli UTR presso l'ufficio speciale di Fossa.